Nuovo boom per il fotovoltaico, un settore che corre ormai in tutta Europa, nel corso degli ultimi dieci anni, si è imposto come il principale produttore di energia rinnovabile. Questo è un chiaro segno della volontà e della possibilità di allontanarci da fonti di energia inquinanti che hanno avuto notevole imbatto sui cambiamenti climatici che stiamo oggi osservando. Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, la crisi economica e alla guerra in Ucraina, in Europa il settore del fotovoltaico vola e supera le previsioni anche nella provincia di Caserta e nell'Alto Casertano. Noi abbiamo incontrato e sentito un'azienda fra quella che sta vendendo di più e sentite che cosa ci ha detto. Sì, abbiamo avuto una grossa richiesta di impianti fotovoltaici. Quali sono i più venduti? Diciamo impianti da 3 kilowatt, 4 kilowatt e mezzo, 6 kilowatt e 10 kilowatt in base alle esigenze del cliente. Ci sono aiuti dello Stato? Sì, ci sono delle agevolazioni che il cliente può soffrire direttamente qui da noi. Ecco, chi è che fa la pratica dal punto di vista burocratica? Gestiamo tutto noi qui in azienda, dalla parte burocratica a parte della documentazione fino al montaggio dell'impianto. E' tutto per casertasera.it